Ben ritrovati amici tifosi biancoscudati, ben ritrovato Edoardo. Buonasera a tutti, popolo di YouTube, mi sono Mustang in versione padovana. E io mi tengo stretto questo pareggio, non sto a sputtarci sopra, va bene. Ce lo teniamo stretto questo pareggio. Partita giocata comunque a viso aperto da entrambe le squadre, molto bene loro, molto ordinati, noi come al solito spergiudicati, ne viene fuori un pareggio giusto. Giusto per quello che è stato, quello che abbiamo ammirato questa sera allo stadio Eugani, in questo Monday Night della Serie C, della Girone A. È un pareggio giusto per le occasioni, da una parte e dall'altra, ma soprattutto per quello che abbiamo visto all'interno dei 90 minuti. Feral Pissalò, che è venuto a fare la partita rispetto alle ultime volte, e questo punto è davvero d'oro per i Leoni del Garta. Il bianco scudo esce un po' con il dente avvelenato, un po' con l'amaro in bocca per aver sciupato una grande chance di riportarsi in testa in solitaria questa volta. Lasciamo la testa della classifica alla neopromossa Novara. Complimenti a loro comunque, perché stanno facendo un gran cammino. E anche a San Giuliano, che è la grande rivelazione di questa stagione. Io però continuo a dire che questo anno è bellissimo venire allo stadio, è bellissimo vedere giocare la squadra, una squadra che gioca, che propone un'idea di calcio, l'idea di Bruno Caneo. Le idee di Bruno Caneo sono spregiudicate. Siamo anche magari un po' fragili difensivamente, ma va bene perché vediamo questi tre difensori a volte un po' abbandonati a se stessi, però va davanti. È un piacere vederli giocare, soprattutto il trio Piovanello, Russini e Liguori, secondo me. Anche giocare senza il centro avanti, vedere questi tre interscambiabili. Piovanello fa su Nueve, visto l'assenza per l'infortunio di Michael De Marchi, quindi non preferisce, non fa partire titolare per la seconda volta in questa stagione Fabio Ceravolo. Ceravolo che però entra e sfiora il gol del 2-1. Grandissimo intervento del portiere Pizzignaco. Nel secondo tempo comunque noi molto meno brillanti rispetto al primo tempo. L'occasione migliore ce l'ha Ceravolo comunque. Dei nuovi entrati è stato il migliore, secondo me. Quello che si è fatto vedere un po' di più, quello che ha portato anche un po' sulla squadra, che ha preso anche qualche calcio d'angolo. Poi gli altri subentrati non sono stati all'altezza, secondo me, dei titolari. Ti dico, non mi ha neanche comunque dispiaciuto Franchini per come è entrato. Ha fatto davvero una buona partita. Tanto fraseggio, secondo me il miglior del Padova invece è Jacopo Dezzi. Non solamente per il gol, che è un grande gol, ma arriveremo comunque a commentare il primo tempo. Peccato per le tante chance sprecate da Russini. Da Russini, sì. Poteva centrarla benissimo. Angolare invece calcia fuori clamorosamente. Quello, secondo me, è l'occasione più grande che abbiamo avuto perché poteva tagliare le gambe alla Ferralpisola. Perché prendere un gol subito così era una botta morale incredibile. Esatto, esatto. Russini che si divora anche su un altro errore difensivo della formazione di Stefano Vecchi. Questa volta al 39esimo un tiro al volo era molto complicato. Però era un'altra potenziale chance. Padova che va vicino al vantaggio con Cretella. Anche questa sera il duo Cretella-Dezzi, secondo me, se è in serata e lo è sempre, davvero è un piacere vederli intercambiarsi. Poi Cretella, quando fa il cambio gioco, è sempre preciso. Proprio un gran piede. Esatto. Cretella-Dezzi comunque è uno che detta molto bene i ritmi. Oggi mi è piaciuto molto. È bravo anche comunque a inserirsi in avanti perché non solo è quando arretra ma anche quando va in avanti. E anche a seguito l'azione. L'abbiamo visto anche nel gol, tra l'altro, infatti, perché lui che ha seguito l'azione, esatto. Molto, molto bravo. Ci ha buttato in avanti e ha cacciato a bocca sicura. C'è l'uscita di Pizzignacco su Russini e la palla vagante arriva a Dezzi che tira un bolide sotto il 7 e porta in vantaggio il pallo che fa esplodere letteralmente di gioia l'Euganeo. È un vantaggio meritato, seppur la Feral Pissarò ha anche colpito un pallo nel corso del primo tempo con Guerra. Guerra che segue il gol del 2-1 dopo il pareggio di Simone Icardi sul cross di Siligardi. Migliore dei loro comunque. Siligardi, giocatore fuori categoria. Assolutamente. Ce ne sono due in questa serata. Uno veste la madre del biancoscudo. L'altro invece è Luca Siligardi, ex Livorno Parma, che abbiamo visto tante volte qui all'Euganeo in Serie B. E una piccola accenno, io vorrei comunque dare un saluto a un grande ex, e li ha legati. Eh sì, legati. 124 presenze, 5 reti con il Padova tra il 2010 e il 2014. Secondo me, gli ex che valgono, bisogna sempre ricordarli. Assolutamente. Poi il legati è stato anche un protagonista di quel Padova che spiorò la Serie A. Esatto, esatto. Uno dei perni della difesa. a volte è messo terzino, ricordo, da Dalcanto, però vabbè, insomma, quando giocava a centrale comunque era bello. Il suo l'ha sempre fatto. E anche comunque nella Feralpi è lui il leader della difesa. Ricordiamo a 36 anni, non è un caso che giochi ancora a titolare in 6-10. Esatto, assolutamente. Quindi, tutto sommato, secondo me, il pareggio è giusto. Sì. E adesso al Voltini di Crema e risalgono ricordi molto molto belli. Lo scorso anno il Padova vinse all'89esimo, novantesimo con un colpo di testa di Aietti nel finale. Parita bruttissima. Ci aspetterà. C'era ancora Pavanel, può essere, vero? Sì. C'era ancora Pavanel. Ci aspetterà. Sono state due partite drammatiche lo scorso anno. All'andata qui Luganeo la pregolettese passò in vantaggio e il Padova riuscì con della latte e biasce a rimontare proprio nel finale. E di lì da loro invece al Voltini è stata molto molto complicata. Sì, sì. Un brutto Padova ricordo anche con un Pavanel che forse era lì per le zone e mancava poco. Quindi due vittorie, due pareggi, due sconfitte per Golettese che in casa è imbattuta due vittorie e un pareggio. Sarà una trasferta molto difficile. Molto molto complicata. Però noi con il nostro gioco spregiudicato possiamo veramente far di tutto. Possiamo perdere come vincere. Il bello del Padova di quest'anno è che non potrai mai prevedere cosa ti farà sia contro le piccole che contro le grandi. Esatto. Poi anche questo campionato. Eh, sì, sì. Questo è un bellissimo campionato. Il gruppo A, il girone A quest'anno è molto più bello rispetto all'anno scorso perché alla fine era tutto Padova su Tirola e un po' la Feralpi. Esatto, esatto. Questo anno è molto equilibrato. Ragazzi teniamoci steto questo pareggio e andiamo a crema a portare a casa in tre punti. Edoardo grazie per l'occasione sempre un piacere. Anche per me dai torneremo ancora allo stadio vi faremo ancora i video insieme il Mustang con The Man o The Sport Walter Dai dai andiamo Forza Padova Forza Padova Andiamo avanti Dai in dei motosi Dai Grazie per l'attenzione lasciate tantissimi like al video iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram Noi ci vediamo in un prossimo video Forza Padova Forza Padova